Siamo tornati. Tirregna Auto, la piattaforma dell'auto. Via Gaudio Maiori 31, Cava dei Tirregni. La Cavese riprende a ingranare. Con due gol segnati nel secondo tempo, la sconfitta di sette giorni prima a Cerignola è stata superata. I metelliani hanno vinto 2-0 a Lamberti, Retidi, Dalterio e Girardi, contro l'alto tavoliere Sansevero, che è rimasto così il fanalino di coda del girone H della Serie D. Invece i bianco-blu scalano due posizioni in classifica, approfittando dei pareggi di Pomigliano e Polisportiva Sarnese, e si affacciano così dalle parti di quella che è la zona play-off, anche se il potenza primo classificato sta scappando via, grazie al suo successo a spese proprio dell'audace Cerignola. Arbitra il confronto Cavese-Alto Tavoliere il signore Rosario Grasso della sezione di Acireale. Metelliani con il 4-3-3, senza il difensore Lame squalificato, il quarto under è il giovane portiere Bisogno, 17 anni, gran fisico. Negli anni 2000 Luca Bisogno è il quinto Cavese a difendere i pali della squadra della propria città, dopo Carotenuto, Criscuolo, D'Amico e Salsano. Alto Tavoliere è schierato invece con il 4-2-3-1, mai usato precedentemente. Gli ospiti denunciano le assenze di Improta e Menicozzo, che sono due tra i più esperti per la squadra di Badacca. La Cavese è inizialmente più pericolosa degli avversari e sfiora tre gol, prima al decimo minuto con Martiniello, che colpisce il palo su assist dalla destra, poi al diciassettesimo con Massimo, il quale dalla distanza calcia oltre la traversa, e poi al trentunesimo con lo stesso Massimo, che da posizione defilata manda a fondo campo. L'unica iniziativa degli ospiti nel primo tempo è di Alessandro Rossi, il suo tiro va a lato. Nella ripresa, mister Leonardo Bitetto, l'allenatore della Cavese, capisce che bisogna aumentare il peso in attacco. Entrano Tripoli e Girardi, escono Fella e Massimo, il 4-3-3 di partenza diventa 4-2-4 e i frutti arrivano quasi subito. Al sessantatresimo calcio d'angolo di Oggiano, spizzicata di Girardi e conclusione di Dalterio, che insacca l'1-0 dedicandolo ai propri familiari. L'alto tavoliere cerca una reazione, accentua i cross, ma non disdegna qualche conclusione da lontano, come al sessantanovesimo, quando Albanese costringe bisogno alla respinta, ma la Cavese ha tanti spazi e incrementa il bottino all'ottantacinquesimo. Cross dalla sinistra di Tripoli, Tomasini sbaglia l'intervento e Domenico Girardi realizza il gol del 2-0, che è anche il risultato definitivo. Nel finale, Bitetto concede minuti a Francesco Favasuli, il cui ingresso in campo viene applaudito dai tifosi di casa. Quando l'arbitro fischia la fine è una gioia per i sostenitori della Cavese, altri tre punti in classifica e preoccupazione per l'alto tavoliere che resta ultimo. Domenica prossima i metelliani avranno il derby a volla contro il pomigliano del trottolino Marco Nappi.